La terza ondata di caldo africano dell'estate 2019 sta entrando nel vivo. L'anticiclome sub-tropicale ha ormai raggiunto la sua massima estensione verso nord, interessando in pieno la penisola iberica, la Francia e buona parte dell'Italia, soprattutto le regioni centro-settentrionali. A partire da oggi, mercoledì e almeno fino a venerdì, la bolla di aria calda ristagnerà su questi settori, portando caldo intenso con temperature sopra la media fino a 10 gradi centigradi in più. Per ritrovare questa media di temperature dobbiamo fare un salto all'indietro nel tempo di almeno 10 anni. Tutta l'Europa e anche il bacino del Mediterraneo sono nella morsa infernale dei venticaldi desertici africani, algerini per la precisione, che stanno trasformando le nostre città in forni a cielo aperto. Ormai il clima temperato italico è solo un lontano ricordo. È emergenza anche per ospedali e pronto soccorsi che aspettano un surplus di accessi, soprattutto da parte di anziani e bambini. Anche il Ministero della Salute ha emesso bollini rosso fuoco per queste giornate, ben 5 per oggi e ben 13 per la giornata di domani, giovedì 25 luglio. Per vedere la colonnina di Mercurio, anche se ormai non esiste più, però l'immagine è molto evocativa, dovremo aspettare la fine del mese, dove faranno la comparsa forse anche le gocce di pioggia. Questa estate come non mai la possiamo etichettare pazza, essendo stati testimoni di bruschi cambiamenti climatici che sono andati dalle grandinate, grosse come palline da golf, a temperature da deserto dei tartari.